vediamo insieme in questa registrazione come effettuare una post produzione fotografica su questo scatto vedremo insieme tutti i passaggi necessari per calibrare la luminosità le luci le ombre come effettuare una color correction e partiremo proprio da questo punto vedremo poi come creare il vignetting per compensare alcuni effetti che applicheremo via via durante l'esercitazione lo scopo è quello di non ottenere una post produzione estrema o eccessivamente brutale su questa immagine lo scopo è quello di ricreare la stessa situazione percepibile dall'occhio umano in questa posizione come vedete dall'immagine non è stata non è stata creata una messa a fuoco ben precisa su un elemento c'è una sorta di messa a fuoco infinita su tutti gli elementi senza considerare la distanza dalla camera e c'è questo gradevole effetto di motion blur di questa sfocatura di movimento dell'acqua che si muove ora come primo passaggio voglio bilanciare la temperatura dell'immagine e guardando l'immagine noto che è troppo calda quindi il primo passaggio è quello di abbassare la temperatura in questo modo posso introdurre una colorazione azzurra che compensa la tonalità arancione che vedete è presente su tutta l'immagine questo ovviamente va in base al mio giudizio ci sono degli strumenti all'interno di camera raw che possono aiutarmi ad esempio in alto a sinistra posso selezionare uno strumento per bilanciare automaticamente il bianco lo strumento in questione questo selezionato mi mi richiede di cliccare su un'area neutra o meglio su un'area che io so essere neutra all'interno dell'immagine ma che è diciamo sbilanciata per quanto riguarda la temperatura colore quando ho cliccato su quel muro di mattoni su quel ponte come avete visto l'immagine è diventata più fredda devo dire che è diventata eccessivamente fredda per questo motivo mi ricordo il valore che è stato proposto da camera raw e a mano cambio il valore qui nel cursore guardando l'immagine e cercando di ottenere un equilibrio nelle varie tonalità il secondo parametro subito sotto mi dà la possibilità di finalizzare questa rimozione del color cast tecnicamente con un termine inglese e in questo caso ho aggiunto un po' di magenta questo perché l'immagine era troppo verde diciamo che era un arancione che conteneva delle componenti verdi in origine posso continuare logicamente posso sempre tornare indietro sui miei passi grazie a camera raw in quanto ogni trasformazione non è distruttiva sul file posso zoomare all'interno dell'immagine per vedere meglio questa operazione richiede un po' di esperienza anzi devo dire che richiede molta pratica per finalizzare questa esperienza quando ci avrete fatto la mano questi passaggi diventeranno quasi automatici all'apertura di un file ora passo nella modalità di correzione curve in cui c'è questa curva lineare e posso cambiare la curva con questo contrasto medio in sostanza questo è un preset mi facilita l'elaborazione in quanto non mi richiede di dover inserire dei punti e trasformarli e in questo modo la trasformazione è oggettiva è creata da Lightroom con i propri valori ora tornando sempre nella modalità principale dopo aver trasformato l'immagine con queste curve che hanno influenzato tutto tutto l'aspetto della luminosità posso procedere in maniera più granulare posso scendere più nel dettaglio in questo caso lavoro sulle luci abbassando leggermente questo effetto come dire, bianco questa dominante bianca e aumentando leggermente i dettagli presenti laddove i pixel erano completamente bianchi come vedete ho integrato dei nuovi valori ora per quanto riguarda questa zona in alto sull'immagine specialmente la zona dove ci sono gli alberi devo dire che è piuttosto scura anziché lavorare sull'esposizione che mi andrebbe a trasformare la luminosità di tutta l'immagine cosa che comunque potrei bilanciare con un filtro graduato invece lavoro sulle ombre quindi la procedura è quella di analizzare l'immagine domandarsi cosa non funziona in questa immagine e fare delle prove chiaro che queste prove ci possono portare in tutte le direzioni dobbiamo avere coscienza delle prove che stiamo facendo ora logicamente nella parte alta essendoci queste forti ombre il fatto di aver dato più luminosità alle ombre sicuramente ha le arese meno scure ora sto lavorando sui bianchi questi ultimi due cursori mi danno la possibilità di lavorare sui bianchi e sui neri sto premendo il tasto alt in contemporanea allo spostamento del cursore per vedere quei punti in cui l'aumento delle tonalità bianche mi comporta una perdita di dettaglio questo perché i valori logicamente non sono infiniti e la nostra elaborazione è inclusa in un range che va dal nero puro al bianco puro ho fatto la stessa cosa con i neri molto spesso si tende a confondere i neri con le ombre e in effetti devo dire che c'è una certa similitudine in quanto le ombre convergono sui neri e vi consiglio di andare molto cauti con i bianchi e con i neri ora una trasformazione che dà sempre dei risultati eccezionali è la chiarezza che consiste in un'elaborazione e in questo caso in un aumento del contrasto sui toni medi quindi non è un aumento del contrasto tradizionale in cui aumentiamo le luci e le ombre ma vengono aumentate le tonalità chiare e scure presenti in un range dei toni medi se guardate l'istogramma in alto capite che cosa intendo per tonalità medie intendo quella zona in cui in un certo senso nei valori rgb si vedono le differenze tra verde giallo e rosso ora passo nella sezione di correzione lente in cui attivo le prime due opzioni quella più importante è la seconda che mi dà la possibilità o meglio dà la possibilità camera raw di identificare la macchina fotografica che è stata utilizzata per scattare la foto identifica automaticamente la lente impiegata questo grazie ai dati EXIF presenti all'interno del file e applica una correzione una sorta di distorsione che tende a eliminare la distorsione creata inizialmente dalla lente ho fatto una trasformazione per quanto riguarda altri parametri in questo caso era il parametro di Haze nella versione inglese che tende a rimuovere una sorta di foschia sull'immagine in che modo? aumentandone il contrasto e aumentando leggermente la saturazione devo dire che utilizzando questo strumento di Haze l'immagine tende a diventare scura e per questo motivo generalmente aumento l'esposizione di poco di pochissimo come vedete dal cursore 0.35 stop però questo poco mi aiuta a compensare quanto perso col di Haze e allo stesso tempo grazie al di Haze ho aumentato il contrasto sulle luci e le ombre e leggermente la saturazione ora avendo applicato la trasformazione lente un paio di passaggi fa come vedete l'immagine è diventata piuttosto piatta non è male questo perché l'immagine è tornata ad essere ciò che l'occhio umano avrebbe percepito in quella posizione però per quanto riguarda uno scatto fotografico effettivamente è diventata un po' troppo piatta per dare più profondità posso introdurre un po' di vignetting ci sono diversi modi per introdurre il vignetting quello principale è utilizzare lo strumento vignetting quello che io preferisco invece è quello che consiste nella creazione di un'area di selezione ovale o circolare dipende dalla proporzione dell'immagine e un abbassamento dell'esposizione all'esterno di quest'area quindi se seguite i passaggi e guardate tutti i vari settaggi che ho sul lato destro della mia interfaccia riuscite a copiare quanto sto facendo sostanzialmente è una selezione ovale con un abbassamento dell'esposizione all'esterno di questa maschera a questo punto posso analizzare il file nel suo insieme come vi dicevo prima cercare di pormi dei quesiti su cosa può funzionare su ciò che funziona realmente all'interno di questa immagine e ciò che non funziona affatto e devo dire che con le varie trasformazioni abbiamo ottenuto un buon risultato ora posso cliccare su Open Image io sto usando la versione inglese sostanzialmente apri immagine l'immagine verrà aperta col profilo colore Adobe RGB 19,98 in un modo colore 8 bit per canale e questa è l'immagine aperta in Photoshop quindi possiamo continuare con Photoshop con altre trasformazioni in cui possiamo rimuovere imperfezioni creare livelli generare tracciati e così via